Una collaborazione sincera e che è andata arricchendosi nel corso degli anni, quella fra l'Università del Piemonte Orientale, che ha visto nascere ad Alessandria il primo polo del lupo, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che metterà a disposizione dell'Ateneo locale 175 mila euro per l'anno 2021-2022, pari allo stesso importo dell'anno scorso. Stanziamenti che serviranno a finanziare questa eccellenza, che cresce per il numero degli iscritti, 13.500 studenti, di cui 3.851 sul polo di Alessandria. Per i corsi di laurea, nel capoluogo alessandrino è stata portata medicina dopo economia aziendale e lettere, per i dottorati di ricerca e per l'offerta residenziale. E poi c'è la meta, non così lontana, di realizzare un campus universitario a fianco al Disit. Ci si è prefissati la posa della prima pietra entro il 2024. Abbiamo affidato da circa un mese lo studio di fattibilità tecnico-economica ad un importante studio milanese che farà un progetto avveniristico, davvero avveniristico. Costo dell'operazione in termini di milioni di euro? Ma allora dovrebbe attestarsi intorno ai 45-47 milioni di euro. Poi ci sono gli arredi, insomma, in tutto dovrebbe essere intorno a cinquantina di milioni di euro. Una cifra imponente. Tra le tante riflessioni in corsa, il sogno di avere, chissà, magari un giorno un collegio ad Alessandria? Un collegio universitario sarebbe bellissimo ad Alessandria. Sarebbe una cosa molto importante sia per l'università sia per il territorio. Perché? Perché innanzitutto consentirebbe a persone che vengono da fuori, quindi non strettamente Alessandrini, di avere una sistemazione nella nostra città e di poter frequentare la nostra università e quindi diventare Alessandrini. Perché poi è chiaro che non ci si distacca facilmente dalla città in cui si è studiato. Ma un collegio universitario sarebbe anche bellissimo perché sarebbe comunque un centro di grosso interesse per la città. Grosso interesse da un punto di vista culturale innanzitutto, ma anche da un punto di vista sportivo, da un punto di vista umano. Il collegio è sempre un momento molto formativo per tutti coloro che lo frequentano. E chi ha studiato a Pavia ben lo sa perché i due collegi tradizionali, oltre a tutti gli altri, ma i due collegi tradizionali di Pavia, Ghisliero e Borromeo, costituiscono veramente delle colonne per la città di Pavia.